un giro a 360 gradi dalla vetta del monte la navetta 2011 metri ecco il resto del gruppo che arriva ci abbiamo messo dalla serra montecanzione alla vetta 20 minuti non di più questa è il marzicano questa è la seconda vetta della navetta che ha 2.9 metri ecco il monte della navetta ecco ecco